Nessuno deve più scegliere se mangiare o curarsi, vieni in farmacia e dona un farmaco a chi ha bisogno. E lo sdlogan lanciato dalla ventunesima giornata di raccolta del farmaco, promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Ollus, che anche quest'anno durerà una settimana, dal 9 al 15 febbraio, e coinvolgerà 43 farmacie comunali e private del territorio provinciale, di cui 11 a Pesaro. In quei giorni sarà possibile acquistare farmaci da banco per persone in grave difficoltà economica e che non hanno quindi nemmeno la possibilità di curarsi. Un anno, quello del 2020, in cui i poveri per via della pandemia sono aumentati, da cui l'appello a donare un'azione quest'anno ancora più necessaria. La pandemia purtroppo ha prodotto addirittura la chiusura di alcuni enti in tutta Italia, per cui le persone devono scegliere tra mangiare o comprare un farmaco. Per cui direi proprio che è una necessità del cuore di venire in farmacia e donare un farmaco in base proprio alle possibilità che abbiamo. L'anno scorso sono stati raccolti circa 4.000 farmaci per un valore totale di circa 25.000 euro e sono andati a coprire il fabbisogno di circa 1.800 persone. Nel 2020, 434.000 persone in Italia non hanno potuto acquistare medicine per ragioni economiche ed anche le realtà assistenziali hanno subito l'impatto della pandemia. Il 40% ha sospeso alcuni servizi, mentre il 5,9% ha chiuso definitivamente e non ha ancora riaperto. Numeri che danno l'idea di quanto il gesto della cittadinanza possa davvero fare la differenza nell'aiutare chi ha bisogno. In un momento come questo bisogna sensibilizzare ulteriormente i cittadini perché oggi noi siamo di fronte a un'emergenza sanitaria, a un'emergenza economica e a un'emergenza sociale. E quindi a maggior ragione sottolineiamo che questa iniziativa ha un valore oggi ancora maggiore. E io credo che i cittadini italiani si vedano, tirano fuori il meglio di sé proprio nei momenti di grande difficoltà.